Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi facciamo fare un piccolo giretto del nostro ufficio dove abbiamo giochi di ruolo, giochi da tavolo. Non vi facciamo vedere la parte prettamente dedicata al lavoro di mia moglie, le stampe 3D e cose del genere perché lo stiamo un attimino risistemando e quindi c'è un po' di confusione a giro. Oggi vi facciamo vedere i giochi da tavolo, i board game che ho qui dietro, tanto mia moglie fa una carellata, e poi i giochi di ruolo che ho nella vetrinetta di là e magari passando nel frattempo, perché no, uniamo l'utile al dilettevole e vi faccio anche, vi do anche qualche consiglio. Comunque abbiamo preso, ovviamente lo sapete, chi tratta di board game ma anche chi ce n'ha, insomma un pochino in casa, una scelta secondo me accurata è quella di andare da Ikea a prendere un Kallax, che questo qui è il Kallax, quello più grande, come vedete quadrato, cinque scomparti per cinque, costicchi anche come prezzo e tutto quanto, però sono i vani, che poi li potete montare a me vi pare, talmente larghi che ci potete mettere tranquillamente dei giochi di ruolo dentro, dei giochi da tavolo e ce ne stanno veramente tanti, poi ce li impilate, insomma ci stanno sia quelli grandi che quelli piccoli. E qui vedete tutti quanti i giochi che poi in più, vabbè, qualche stampa 3D, qualcosa che ha fatto mia moglie e questo, che me lo dite sempre nei video, guardate bello, la riproduzione fedele di Baby Yoda, che non si chiama Baby Yoda ma è Grogu, che usa la forza, questo è bellino, è fatto, è fatto veramente bene e qua dietro abbiamo un bel po' di giochi, vi ricordo tutti i giochi che state vedendo sono stati trattati sul canale, quindi se sul nostro canale andate in video e nella ricerca andate a mettere il nome del gioco e lo trovate direttamente. Vabbè, come non consigliarvi Alien, il gioco di ruolo, la versione questa qui, quella di AVP, purtroppo è fuori produzione, perché questo, cioè il gioco di Alien è più bello, però il livello qualitativo delle miniature in resina che sono qua dentro era inimitabile, poi abbiamo altri giochi, ad esempio un gioco che ci hanno mandato dall'America, che in Italia non è ancora uscito perché comunque è un prototipo, Murder Castle, che ci è piaciuto molto come gioco horror, un po' investigativo, ricordo anche un po' Dead by Daylight, se vogliamo, molto molto interessante, poi vabbè, vari giochi come le leggende di Andor, che è un capolavoro, secondo me, fantasy della Giochi Uniti, bello sempre andare a casa, da parte Jack Sparrow in versione Grogu, che mia moglie è fissata, guardate bello, mentre di qua abbiamo il Pro de Vecna, il Pro de Vecna di Stranger Things, dell'ultima serie che è uscita, e qui The Thing della Pendragon, con tutte quante le espansioni uscite, un gioco che vi consiglio assolutamente per giocarlo in cooperativa, in competitiva, quindi con la cosa, con l'aliena nascosto, e un gioco che ha una componentistica e una longevità veramente estrema. Poi vedete, vabbè, qui abbiamo tutto quanto il reparto Harry Potter, più vabbè Twilight Inscription, che ci è arrivato, a breve ci ho anche fatto il video, lo trovate sul canale, Stupeficium e altri vari giochi, tra l'altro qua giù in basso, qui, abbiamo anche due bellissimi giochi, che sono Last Bastion, che vi consiglio proprio calorosamente, e se riuscite a trovarne una coppia, però in prezzi umani, anche Company of Virus, il gioco da tavolo, che è veramente una figata assurda. Qui abbiamo, vabbè, un titoletto veloce, tipo Stranger Things, quello dell'Asmo d'Italia, Walking Races, che è veramente bellino, e poi abbiamo Talisman, gioco base con espansione, e Talisman Kingdom Hearts, che Talisman è un gioco ed è un sistema universale che si presta bene a tutte le ambientazioni, ed è uscito tramite Asmo d'Italia anche in versione Harry Potter, quindi è veramente una figata assurda. Poi vabbè, una mega carrellata di giochi, come avete visto qua sotto, anche un bel Mysterium Park, sempre divertente come gioco di indagini e investigazioni, molto bellino anche Fiabi di Stoffa, laggiù sotto, per poi, vabbè, non ve li cito nemmeno, tanto lo sapete a priori che La Notte dei Morti Viventi e Zombicide, nuova edizione, sono due capolavori assurdi. Ora, senza elencarveli tutti quanti, tanto come vi ho detto, comunque li trovate sul canale, e vi faccio fare una carrellata anche della nostra zona, e non sono tutti, perché altri li abbiamo da altre parti, della nostra zona, qua su in cima, Lovecraft, quindi con anche un giochetto veloce, ve l'avevo portato sul canale, Miss Catonic University, un veloce gioco di carte, e poi abbiamo Arkham Horror, il gioco di carte, Arkham Horror, il libro dell'arte, fatto veramente bene con tutti i disegni, più belli tra l'altro, e Insondabili, che è un altro titolo che vi consiglio da morire dalla Fantasy Flight, perché Insondabili è una versione di Battlestar Galactica, in ambientazione appunto Lovecraft. Qui abbiamo un capolavoro che non è, non è, coso, non mi viene il nome ora, Deadpool, ma abbiamo un gioco introvabile, o meglio, si trova, però i bagarini vi chiedono anche 300 euro, tranquillamente, Gears of War, della Fantasy Flight, al tempo portato in Italia, sempre da Asmod Italia, che è di uno spettacolo assurdo a livello di regole, e poi, immancabile, secondo me non può mancare nei fan dei Dungeon Crawler, Assalto Imperiale di Star Wars, completamente nella nuova edizione, completamente guidato da App, App tradotta in italiano, che è veramente bellissimo, e abbiamo anche un altro bel gioco, Sky Tier, che è un MOBA, e quanto prima vi porterò sul canale, promesso. Poi, qua sotto, spostando un attimino questa lanterna, abbiamo World of Warcraft, nel sistema Pandemic System, e abbiamo, vabbè, a parte il gioco di Kick-Ass che vi ho fatto vedere, Doom, un altro capolavoro al pari di Gears of War, e Evil Dead 2. Il gioco da tavolo, il board game ufficiale della casa 2, gioco base, più l'espansione, quella della cabin, che è veramente di uno spettacolo assurdo. Spostandoci, rimetto le cose a posto, perché sennò poi mia moglie... Spostandosi, invece, un pochino più in qua, esattamente qua sotto, altri bei titoli, io vi metto sempre i titoli che piacciono anche a me, quindi i titoli più prettamente action o dungeon crawler. Qui abbiamo Mice & Mystics, cioè, basta, non c'è bisogno di presentarlo, e soprattutto Terminator, Terminator Genesis, più l'espansione, mandateci dalla Weird Edizioni, che ringrazio di cuore, e questo, come anche questo Village Attacks della Weird, sono dei titoli veramente, veramente interessanti, veloci come regole, e fatti veramente bene anche come componentistica all'interno, per poi passare a un malloppone disumano, che è tipo il Bloodborne. Come vedete qua giù, Bloodborne, sempre della Camon, portato in Italia da Asmod Italia, che è uno spettacolo assurdo, e secondo me, va anche un po' a correggere gli errori dei Dark Souls, che erano belli come giochi di miniature, ma come regolamenti in sé per sé, erano un po' macchinosi. Vi do un consiglio, questo, per me, questo, è uno dei più bei giochi da tavolo, fatti fino a oggi, ve lo giuro, se lo trovate, a volte lo trovate ancora in qualche negozio, o qualcuno che se le vuole liberare a 20 euro, prendetelo subito, perché in questo gioco di carte c'è Space Hulk, avete presente il gioco della GV, riprodotto fedelmente, anzi, Space Hulk normale, a volte mi è sembrato un po' troppo semplice, più dalla parte dei Marine, che hanno un volume di fuoco disumano, dei Terminator, qui è tutto la rovescia, un gioco che potete fare di gruppo, o in solitaria, dove, se vincete una partita, fateci una foto, registratela, perché non vi crederà nessuno, questo è un piccolo capolavoro, se lo trovate, prendetelo assolutamente, e infatti io l'ho cercato per un po', e poi l'ho trovato anche a un prezzo umano, più altri giochi, come vedete qua giù, vabbè, non vi sto a citare Deep Madness, che lo sapete, chi mi conosce lo sa, è il mio dungeon crawler horror preferito, e poi qua giù abbiamo altri giochi, tipo vabbè, la scatola blu di Deep Madness, dove ci potete mettere tutte quante le espansioni, è una scatola, era uno stretch goal del tempo, abbiamo stampato il sottomarino, lo U-Boat del gioco, eccolo qui, U-Boat o U-Boat, della Cranio Creations, lo abbiamo stampato, e poi altri giochi come Massive Darkness 2, sempre bello, interessante e divertente, o per me un gioco che anche qui, due giochi che non devono mancare, un Bang, o in edizione Bang Daddy, o in edizione Bang Carte, come volete, tanto sono belli tutti e due, e poi un Axis and Allies, in tutte le sue edizioni, perché è veramente un gioco molto strategico, e molto interessante, passando invece dalla parte di qua, ora vi facciamo vedere ovviamente, un po' una carrellata, anche perché mia moglie non ce la fa più, sta con la staffa a vano, messa così, passando di qua, abbiamo un pochino di giochi di ruolo, poi vabbè, abbiamo altri giochi da tavola, anche qua sotto, che non vi facciamo vedere tanto sull'ultima decina, un po' di giochi di ruolo, abbiamo l'ultima bomba, della Serpentarium, l'unico anello della Fria Ligan, in edizione italiana a cura di Need Games, e l'abbiamo anche in edizione inglese, dell'appunto Fria Ligan, i vecchi avventure nella terra di mezzo, della quinta edizione, che li stanno ristampando tutti, se andate sul sito della Fria Ligan, li stanno ristampando, perché la Fria Ligan ha preso proprietà, completa della terra di mezzo, e non soltanto stanno stampando The One Ring, l'unico anello, ma anche tutti i manuali, per giocare la terra di mezzo, in D&D quinta edizione, poi vabbè, manuali di D&D, Brancalonia, Detting Space, che ho portato sul canale, questo gioco della Fria Ligan, è Mork Borg, nello spazio, ragazzi, compratelo, bellissimo, anzi, per certe cose, meglio questo, del regolamento di Alien, per certe cose, poi su, c'è una mia foto, di quando ero piccolino, al mare, se la volete, è compresa nel prezzo, e altri vari, vari giochi di ruolo, come vedete, abbiamo Unwesen, vecchia edizione di Martelli da Guerra, Forbidden Lens, con i dadi, The Expanse, molto bellino, il gioco di ruolo di The Expanse, abbiamo Mutanti di Arziro, The Witcher, bellissima ambientazione The Witcher, il regolamento un po' troppo noostico, macchinoso, e il capolavoro dei capolavori, La Leggenda dei Cinque Anelli. per poi spostarci di qua, dove abbiamo un bel po' di roba, della Games Workshop, ma non soltanto, e abbiamo un po' di giochi, di Warhammer Underworlds, ce l'abbiamo tutti, guarda qui dietro, mia moglie si è divertita a stampare, il Necronomicon, e qua dietro abbiamo, i giochi della serie, di Warhammer Underworlds, Guerra delle Anime, espansione Pregge of Sigmar, War Cry 7 introduttivo, Città Maledetta, che forse è il gioco più bello, che la GV ha fatto negli ultimi anni, Blackstone Fortress, che non mi fa impazzire, una bella idea, ma non mi fa impazzire, Overkill, capolavoro, la maggior parte ragazzi sono, soprattutto Blackstone Fortress, e questo sono fuori edizioni, ma vi posso dare anche qui un consiglio, lasciate stare tutti questi giochi che vedete, a parte Hero Quest e Space Crusade, lasciate stare tutto, se trovate Death Watch Overkill, compratelo, vi chiedessero anche 150 euro, compratelo, perché è un altro di quei regolamenti veloci, e belli che hanno fatto la GV, veramente veramente bello. Poi qui abbiamo Kill Team, il vecchio starter set, Necromunda, la versione Dark Apprising, quello che ha uno scenario grosso sì, ci vuole tutto il tavolo, e poi Space Hulk, nella sua ultima, perché per ora non l'hanno mai ristampato, e quarta edizione. E poi qui abbiamo un altro po' di giochi, qua su è tutta la nostra zona della Serpentarium, quindi tutti quanti manuali usciti finora, ne mancano tipo un paio, di Sine Requie, che non l'ho mai nascosto, è il mio gioco di ruolo preferito, e qua sotto abbiamo un altro po' di manuali, che anche qui, se vi posso dare un consiglio, mentre li vedete, come consiglio mio, spensierato, per farvi veramente divertire tanto, il gioco di ruolo, che è qua giù, il gioco di ruolo di Labyrinth, che è molto interessante, anche questo, praticamente vi create il vostro labirinto, come se foste nel film, e lo rigiocate, quindi ve lo potete plasmare, come vi pare a voi, molto interessante anche i manuali di Deadlands, quelli nuovi, anche se il regolamento senza carte da gioca, a me non fa impazzire, e poi qui City of Mist, City of Mist è un regolamento strano, ma è una delle ambientazioni, meglio fatte, veramente mai uscite, e poi qui abbiamo tutta la roba di Alien, dove c'è anche il gioco di Conan, sempre 2D20 System, più un nome nera della Weird, e poi abbiamo i regolamenti di Alien, per ora l'abbiamo tutti, anche in versione sia in italiano che in inglese, e quindi di roba veramente, ce n'è tanta ancora, anche da portare sul canale. In conclusione ragazzi, vi abbiamo fatto vedere un po' come ci siamo disposti, con tutti quanti i giochi che ci sono arrivati, e quelli che ci dovranno ancora arrivare, non vi si è fatto fare una carrellata, veramente a 180 gradi, perché il resto della stanza, è ancora in costruzione, non tanto in costruzione, quanto in sviluppo, in ammodernamento. Io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere insomma, anzi fate una cosa, nel video, se avete visto passare qualche gioco, che magari vi interessa, fermatevi, scrivetemelo nei commenti, così magari ve lo faccio vedere, in un prossimo video, quindi magari Cori, si è passato avanti a, boh un gioco che non ci ha presentato, Arkham Horror, ne dico uno no, non ci potresti parlare un pochino più di quel gioco, io magari ci faccio, perché no, anche un video dedicato, quindi se avete visto qualcosa, che vi ha attirato l'attenzione, fatemi sapere, come sempre, tutti questi giochi sono ordinabili dal nostro negozio sponsor, gioco libreria Simola, al miglior prezzo sul mercato, sempre primo link in descrizione, e usate il codice discount Corridan 7, per avere uno sconto del 7%, per spese superiori a 79 euro, spese postali gratuite in tutta Italia, consegna col corriere tra l'altro in 48 ore velocissimo, e se i giochi che avete visto, a parte che non siano fuori edizione, ci sono nel catalogo ma sono finiti, oppure proprio non ci sono, scrivete al supporto e fate presente che arrivate dal mio canale, faranno possibile per farveli trovare, insomma ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, e fatemi sapere, ciao alla prossima, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch man a mano troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao alla prossima, Grazie a tutti,